Ciao, sono Dario, ho 35 anni, vivo a Milano. Nel 2005 ho iniziato ad avere dei gravi problemi digestivi e questo mi ha portato a un dimagrimento molto grave per l'impossibilità di alimentarmi. Dopo varie esperienze molto difficili e non positive, ospedaliere e mediche, sono riuscito ad arrivare alla diagnosi, è stato importantissimo per me perché la mia gravità mi impediva di alimentarmi e bere totalmente. Con la Nutrizione Artificiale la mia vita è cambiata, il supporto alimentare di vitale importanza, ho riacquistato la mia vita, la considero la mia seconda vita. La quotidianità della Nutrizione Artificiale con tutta la gestione intestinale della pseudo-struzione intestinale che mi è stata diagnosticata non è facilissima ma non è la fine del mondo. Ci sono alcune cose materiali limitanti, però ci sono anche tantissime cose che vale la pena di vivere. Per me è stato molto importante ed è sempre stato importante coltivare le mie amicizie, i miei affetti. La mia passione per la musica, la mia passione per andare ai concerti, mi cambia la vita, mi fa svegliare felice ogni giorno. Avere delle persone importanti che mi aiutano nella malattia, ma anche non nella malattia, è la mia felicità ogni giorno. La normalità è un concetto che non esiste e dobbiamo mostrare la nostra disabilità perché non è una vergogna, non è un qualcosa da nascondere, dobbiamo coltivare l'inclusività e dobbiamo essere noi primi ad aiutarci. Crederò in questa cosa e la porterò avanti per quel poco che posso migliorare per me stesso e per gli altri. Grazie a tutti.